Giro di vite da parte dei carabinieri di Vicenza contro la microcriminalità a partire da oggi per tutta l'estate. La zona di Campomarzo del centro storico sarà sottoposta a puntuali controlli nelle giornate di martedì e giovedì in concomitanza con il mercato della settimana, mentre la domenica mattina l'attenzione dell'arma si sposterà nell'area del santuario di Monteberico. Un'unità mobile sarà a disposizione per raccogliere e formalizzare eventuali denunce, un impegno che risponde alle esigenze della città concordato anche nell'ultimo commentato provinciale per l'ordine e la sicurezza.